Musica Benvenuti da One Piece i Massimi Esperti in questo nuovo video teoria e approfondimento. Come sempre sono il capitano, oggi andremo a parlare di Marshall D. Teach, Barba Nera. Sveleremo il suo legame con Roxy di Ksebek, i suoi poteri e le sue origini. Come sappiamo Marshall D. Teach, Barba Nera, è uno dei quattro imperatori. In passato faceva parte della ciurma di Barba Bianca o Baffi Bianchi ed era anche un flottaro, era un membro della Fortale 7. Comunque, se ci state seguendo per la prima volta, ricordatevi di iscrivervi al canale YouTube, di attivare la campanella e di passare anche da tutti gli altri nostri social che vi spiegherò nel dettaglio alla fine del video ma che trovate anche nella descrizione del canale. Allora, innanzitutto andremo ad analizzare tutte le info che ci sono pervenute dai capitoli recenti su Barba Nera, partendo dal capitolo 956 chiamato Grandi Notizie. Di fatti, vediamo Barba Nera che è pronto a partire insieme ai suoi uomini, dicendogli che deve a tutti i costi anticipare la marina. Quindi Teach è disposto ad affrontare la marina, probabilmente, secondo noi, si può riferire al recupero di qualcuno o qualcosa. Passando al capitolo successivo, il numero 957, riceviamo altre importanti info su Barba Nera. Prima di tutto sappiamo che lui è diventato imperatore da un solo anno e ha preso il posto vagante del defunto Barba Bianca. Inoltre sappiamo che il sovrano dell'isola dei pirati, Beive, viene rilevata anche la sua taglia, che ammonta 2 miliardi e 247 milioni, per alcune analogie legate ai numeri del vero Barba Nera delle leggende. In questo capitolo, inoltre, viene introdotto Rox di Ksebek. E noi adesso andremo a parlare del legame che c'è tra Marshall di Teach e Rox di Ksebek. Un legame che molto probabilmente può essere anche inteso come termini di volontà ereditata. Però adesso mi andrò a spiegare. Ora vi andrò a fare un confronto un po' particolare, una piccola chicca. Monkey di Rufy, che è ereditato la volontà di Gold di Roger, che magari era a sua volta quella là di Joy Boy. E Marshall di Teach, che è ereditato quella di Rox di Ksebek. Questa volontà della D, questo sogno, questo dream, questa nemesi degli dei, la D può significare tantissime cose. Però, pensatelo, nella sua accezione negativa, naturalmente, in senso relativo, in base alla lettura del manga. Luffy e Teach sono la doppia faccia della stessa medaglia. Per questo, Teach potrebbe aver ereditato la volontà di Rox di Ksebek. Magari potrebbe essere anche addirittura, questa è un illazione, un suo discendente. E quindi, la metà cattiva che vuole dominare il mondo, la metà che vuole essere anche lui il re. Così da contrapposti a Rufy, la metà buona, il re dei pirati, l'uomo più libero del mondo, colui che non vuole dominare su nulla e che anzi, in realtà, libera i popoli. Difatti, se ricordate attraverso i flashback, Rox di Ksebek si contrappose a altri due possessori della D, cioè Garp, l'eroe della marina, e Gold di Roger. E qui si evince proprio uno scontro delle volontà della D. Questo Rox comunque era un portento, perché aveva con sé pirati incredibili. Big Mom, Kylo, Barba Bianca, Shigleone Dorato, Capitano John. Probabilmente ci furono anche Shaki e Bucking, ma tantissimi altri. Naturalmente, molti di loro erano giovani, e quindi non tutti erano all'apice della loro potenza. Naturalmente, una piccola aneddota, una piccola aggiunta, io in questo momento, come sapete, che anche spesso dico nelle live, io sto parlando delle volontà, però, nella pirateria. Perché, come sempre vi dico, secondo il mio punto di vista, massimo esperto di mani su quale io sono, l'ultimo avessero dei pirati sarà Ticci, ma poi la nemesi vera di Rufy sarà Im-sama. E lì si andrà a contrapporre ancora un altro tipo di volontà. Però lì poi sarà il re dei pirati, l'uomo più libero del mondo, che si andrà a contrapporre a Im-sama, che dovrebbe essere la nemesi, cioè gli dèi, no? Perché Rufy sarà la sua nemesi, e quindi lui sarà il dè o la dèa, a seconda del suo sesso, e quindi quella lì che si contrapporrà, perché il dominio del mondo è nelle sue mani, al di sotto dei quali sono gli assi di saggezza, i draghi celesti, i fantocci, ma sappiamo già tutto. Quindi, intesa queste due dì, Rufy e Ticci, ma le dì, io sto parlando della pirateria. Adesso, oltre alla faccenda storica, andiamo a vedere le semitudini tra Ticci e Rox. Il nome della nave, la Zattera, la Saber of Xebek, ricorda proprio il nome di Rox. di Xebek, e dunque potrebbe essere ispirata in suo nome, sicuramente lo è. Saber, in inglese significa Shabala, mentre Xebek è il nome inglese dello Shabekko, un'imbarcazione di origine araba diffusa nel Mediterraneo a partire dal XIV secolo. Molto strano è il fatto che Rox non abbia una taglia, o almeno non ci è stata rivelata, probabilmente perché doveva essere insabbiata la sua storia, tant'è che molti marine non sanno nemmeno dell'esistenza di Rox, sembra ci sia stata una dannazio memoria per lui. Saber of Xebek può anche avere un altro significato, oltre a Shabala, ossia il sapere di Xebek. Altro collegamento è l'isola dove Barba Nera ha la sua sede, cioè Beiv, Hachinosu, l'isola dei pirati. Kaizoku Shima è un luogo definito come un paradiso per i pirati. È formata da una roccia gigante, a forma di teschio, con una bandana. Essa è attualmente la base della ciurma di Barba Nera. Questa era l'isola dove si radunarono i pirati Rox, inoltre la forma dell'isola è uguale al jolly roger proprio dei pirati Rox e alla prua della loro nave. Su di essa è stato inventato il Davy Back Fight, che è anche il metodo con cui Teach ha soldato i pirati che erano rinchiusi al livello 6 di Impel Down, se ci pensate. Vediamo ora le info che sono arrivate dal capitolo 966, Di fatti, nel flashback di Oden, grandissimo personaggio, fantastico, vediamo questo scontro fra la ciurma di Barba Bianca e quella di Roger. E vediamo Barba Nera, Shanks e Buggy, allora giovanissimi, fare le guardie ai rispettivi equipaggi. Buggy poi dice a Shanks che Barba Nera è stato di guardia senza dormire per vari giorni, ed aggiunge anche che Barba Nera sembra non abbia mai dormito, non avesse mai dormito in vita sua. Quindi praticamente ha vissuto il doppio del tempo delle persone normali. Questo ci indica ancora di più quanto questo personaggio sia incredibile fin da bambino. Riflettendo ancora su Teach, visto che lui non ha bisogno di dormire, a detta di Shanks può godersi il doppio della vita. In altre parole, traducendo, è come se Barba Nera avesse le esperienze e le conoscenze non di una persona di 40 anni, bensì di una persona di 80 anni. Fatto questo piccolo recap, infine, adesso, possiamo passare alle vere e proprie illazioni e teorie che abbiamo fatto su Barba Nera, sui suoi possibili poteri derivanti dal frutto dark e dark e dalla sua costituzione fisica. Infatti noi sappiamo che il suo potere, quello del dark e dark e dell'oscurità, è in grado di assorbire tutto, qualsiasi tipo di oggetto, ed anche di annullare il potere di un utilizzatore dei frutti del diavolo, di qualsiasi genere esso sia. L'abbiamo visto sia con Rufy che con Ace, che oltre ad annullare i loro poteri, le attirava verso se stesso, come se fosse un vero e proprio punto attrattivo e che quindi generasse gravità. Il suo frutto, però, non gli dona l'intagibilità come per altri oggi, comunque ha una capacità rigenerativa e di cura molto rapida. Marco la Fenicia Marineford disse che Barba Nera riuscì ad assorbire anche il frutto del padre, quindi due frutti, data la sua anomala con formazione fisica. Noi adesso, per questo tipo di situazione, vi facciamo diversi parallelismi con altre opere. Un piccolo spoiler per chi non segue Demon Slayer è Muzan, il richiamo a Muzan, cioè l'avversario più pericoloso e finale dell'opera, che possedeva sette cuori e cinque cervelli. E per questo era quasi praticamente impossibile ucciderlo. Magari Barba Nera potrebbe avere due cuori, due cervelli? Infatti, se ci rifacciamo alla leggenda del vero Barba Nera, si dice che avesse due cuori. Infatti scampò per miracolo a un colpo di proiettile che gli passò vicino al cuore e dall'inacqua questa grandissima leggenda. Magari ancora un'altra relazione potrebbe essere proprio il potere del Dark Dark derivante da questo frutto, una caratteristica che gli permettesse di assorbire ancora un altro frutto, chissà. Un'altra relazione importante, prendendo come spunto Miro Accademia con Midoriya Izuku, il protagonista, è il potere del One for All. Teach, infatti grazie a Dark Dark, potrebbe riuscire ad entrare in contatto con i precedenti utilizzatori del frutto e quindi in questo caso, mettendo per ipotesi che Xebek fosse lui il precedente possessore del Dark Dark, ci spiegherebbe perché Teach voleva a tutti i costi questo frutto e da cosa potrebbe derivare così la sua enorme conoscenza e le sue enormi connessioni con il passato. Sarebbe una cosa incredibile questa. Un altro parallelismo con Blitz, possiamo parlare di quello che divende il nuovo capitano comandante, Chioraku Shunzui, che mostrò il suo misteriosissimo Bankai, che chiamava Katen Chokotsu Karamatsu Shinju, che tradotta naturalmente, Follia delle osse dei fiori celesti, suicido degli amanti sotto il pineto nero. Anche lui affermò che non sapeva cosa ci fosse dall'altra parte, perché era ingobbata in un'oscurità più totale. Finiti questi parallelismi con gli altri manga, naturalmente conosciamo bene il Gura Gura, l'abbiamo visto più volte a Marineford grazie al vecchio Barba Bianca, ma anche nel flashback contro Roger, quindi non ci soffermiamo su quell'aspetto, se non per il fatto che questo gli permette di possedere una forza distruttiva incredibile. Vi ricordiamo inoltre, che facevamo già un video su Barba Nera, il primo video teoria del canale, che vi metterò qui nelle schede alla fine di questo video qui, e non vi ho parlato di quello lì, accennammo a come potesse Barba Nera rubare i frutti e darli poi ai suoi sottoposti, però vi rimando a quel video lì. Naturalmente, ve lo lascio come ho già detto nelle schede del canale, vi ricordo i nostri social, passate dal nostro canale Telegram, il nostro account Instagram, le nostre pagine Facebook e il gruppo Facebook, ricordatevi che stiamo scrivendo su Vampisi, Massimi Esperti e tanto altro, le nostre collaborazioni AnimeTubers e Mugiwara Italia, e al prossimo video dai Massimi Esperti è tutto, e ricordatevi che qui c'è solo la verità. Naturalmente, questo grandissimo legame che c'è tra Rox Dixerbeck e Barba Nera potrebbe aver permesso a Barba Nera di conoscere molte più cose e sapere veramente tante piccole cose, che noi sapremo più avanti nell'opera, magari anche legato ai Pogne Griff, chissà, lo scopriremo più avanti. Grazie